Il padre di Bobby Garfield era stato uno di quelli che cominciano a perdere i capelli sui vent'anni e sono completamente calvi intorno ai 45. La morte per infarto a 36 aveva risparmiato a Randall Garfield questo esito estremo. Era agente immobiliare e aveva esalato l'ultimo respiro sul pavimento di una cucina altrui. Quando era aspirato il possibile acquirente era in soggiorno a cercare di chiamare un'ambulanza da un telefono scollegato. Ha lasciato un vuoto colmo di tristezza era scritto sulla lapide di Randall Garfield ma sua madre non era poi così triste e quanto a Bobby beh come si può rimpiangere una persona che non si riesce a ricordare. Mentre passavano davanti al negozio Bobby buttò lì che la bici in vetrina sarebbe stata di sicuro uno splendido regalo di undicesimo compleanno per qualche ragazzino fortunato. Non ci pensare neppure rispose lei. Non posso permettermi una bici per il tuo compleanno. Tuo padre non ci ha lasciati messi un gran che bene lo sai. Randall era già morto ai tempi della presidenza Truman e ora Eisenhower stava finendo il suo secondo mandato quadriennale. Eppure tuo padre non ci ha lasciati messi un gran che bene. Era ancora la risposta che comunemente otteneva da sua madre ogni volta che suggeriva iniziative che comportassero una spesa superiore al dollaro. Il commento era di solito accompagnato da uno sguardo dell'improvero. Quasi che più che morire suo marito l'avesse piantata. Niente bici per il suo compleanno. Così rifletteva malinconico Bobby tornando a casa. E si dissolse in lui quasi del tutto il piacere di quello strano film confuso. Non discusse con sua madre. Non cercò di blandirla. Cosa che avrebbe istigato un contrattacco. E quando contrattaccava, Litz Garfield non faceva prigionieri. No, rimoginò sulla perduta bici e il perduto padre. Certe volte arrivava quasi a odiarlo suo padre. Certe volte a trattenerlo dall'arrivare a tanto. Era la sensazione, disancorata ma molto forte, che sua madre avrebbe voluto che lo odiasse. Raggiunto il Commonwealth Park, quando cominciarono a costeggiarlo, superò le sue solite apprezzioni e le pose una domanda su Randall Garfield. Non ha lasciato niente, mamma. Proprio niente, niente. Uno o due settimane prima aveva letto un giallo di Nancy Drew in cui l'eredità di un bambino povero era stata nascosta dietro un vecchio orologio in una villa abbandonata. Non che Bobby credesse che suo padre avesse accantonato in qualche nascondiglio monete d'oro o francobolli rari, ma se qualcosa c'era, forse potevano venderlo a Bridgeport, per esempio a uno dei Monti di Pegni. Bobby non sapeva bene come funzionava il meccanismo degli oggetti dati impegno, ma sapeva che aspetto avevano i negozi. Erano quelli con le tre sfere d'oro appese davanti. Ed era sicuro che quei negozianti sarebbero stati lieti di dar loro una mano.